Come i tanti programmi che stanno per tornare in tv c'è anche quello di Maria De Filippi e lei stessa sta per tornare in onda con il suo programma, cioè con Uomini e Donne. Il dating show, quello amato del pomeriggio di Canali 5, le cui registrazioni in realtà sono iniziate già da giorni, ma sarà in tv dal 19 di settembre, data in cui ci sarà un grande start anche da parte del grande fratello e poi ci sarà tu sì che vales, c'è posta per te tutti i programmi sempre di Maria, a parte il grande fratello. Bisognerà però per questi ultimi aspettare un po' di più. Tornando a Uomini e Donne, uno dei programmi più longevi di Maria De Filippi, le ultime registrazioni risalgono ad esempio al 12 di settembre, quindi insomma di uno spizzichino di giorni fa e sono già uscite delle anticipazioni su ciò che è successo e ciò che si vedrà in tv. Come ad esempio Roberta Di Padua, che ha chiuso la conoscenza con Alessandro, ma ha deciso di rimanere nel parterra. Fabio Mantovani e Isabella Ricci ad esempio sono tornati in studio per raccontare come vanno le cose da marito e moglie. Gemma Galgani invece ha conosciuto un nuovo cavaliere arrivato in studio per corteggiarla e Tina Cipollari ha già chiamato il medico degli studi. Infine ancora discussioni forti tra Ida Platano e Riccardo Guarnieri, così come Armando Incarnato e Alessandro. Insomma i batti vecchi lo sappiamo, ci sono sempre. Non li vediamo ancora in tv, ma Maria De Filippi e la sua redazione sappiate che sono tornati a lavorare già da settimane negli studi e la foto infatti che vi avevo proposto nell'immagine testimonia ciò. Quindi è proprio dagli uffici che spunta questa foto che ritrae la regina Mary ed è stata scattata dalla sua collaboratrice Raffaella Mennoia, che l'ha poi condivisa sul suo profilo Instagram. Altrimenti io non avrei potuto mai reperire questa fotografia. Bellissimo cane, eh? Bellissimo. Riunione di scaletta, sa chi? Questa è stata la didascalia del posto in cui Maria De Filippi è seduta sul divano con il suo cagnolino, cagnolino, cagnolone, che ha anche partecipato attivamente a una puntata della scorsa edizione di Uomini e Donne. Maria, come sappiamo tutti, non ha i social ed è raro imbattersi in scatti privati come tipo questo, che inevitabilmente fanno il pieno di like, appunto perché sono pochi, ma come si dice, pochi ma buoni. Questo è tutto per quanto riguarda questa news, vi ringrazio per l'ascolto, come sempre alla prossima, mi raccomando, rimanete informati.